Assessore c'è un nuovo polo scolastico da presentare? Beh sì, diciamo che forse è una delle novità più belle del tutto il panorama scolastico, dell'edilizia scolastica del nostro periodo di amministrazione. È stato un progetto importante, la scuola molinaria è stata inserita all'interno dell'ordinanza 6, l'ordinanza termo che prevede la sistemazione di diversi edifici scolastici nel nostro territorio, ma attualmente è utilizzata come scuola per i ragazzi della San Giuseppe e i ragazzi della Savini. Quindi questo progetto che oggi abbiamo presentato e che in qualche modo rappresenta un inizio di un percorso progettuale allo studio di fattibilità, è l'ambizione che ha avuto questa amministrazione nel pensare e nel momento in cui i ragazzi torneranno nelle scuole San Giuseppe e Savini potremmo procedere all'abbattimento e alla ricostruzione del primo polo scolastico della nostra città. Un polo scolastico per quello che ci riguarda, bellissimo, accattivante, sotto un profilo non solo energetico, di risparmio energetico, ma anche di qualità degli impianti che ci saranno all'interno, di utilizzazioni di spazi che in qualche modo la dirigenza scolastica ci ha richiesto e che in qualche modo saranno ricompresi, cosa che non poteva accadere per le scuole che sono state adeguate sismicamente ma che nello stesso tempo ovviamente in una situazione di questo tipo con una demolizione e ricostruzione non potevamo fare altro che contemplare. Devo dire che l'altra cosa importante non è solamente la forma, le caratteristiche del progetto che sono a mio modesto avviso molto belle, ma la cosa importante è che questo progetto, questa scuola, questa struttura si andrà ad inserire all'interno di un contesto urbanistico che vede diverse tipologie di edilizia, quella popolare, quella un po' civile, normale, ma che nello stesso tempo sarà un aggregante che accoglierà all'interno, potrà accogliere all'interno anche quelle che sono le esigenze di un quartiere così importante come quello di Via Roma, di Via Pepe e non solo, quindi voglio dire che è un progetto ambizioso. I costi di investimento nella previsione dell'ordinanza 6 era di 9 milioni di euro, ovviamente è un progetto preliminare che adesso non contempla dei costi puntuali, ma che è un progetto ambizioso di questo tipo sicuramente vivrà anche di un passaggio del tempo, perché l'ordinanza 6 oramai già ha qualche anno di anzianità e quindi la previsione economica fatta in precedenza potrebbe essere aumentata rispetto al momento in cui andremo poi realmente a realizzare questo edificio scolastico. La gara della San Giuseppe, l'ingegnere Manetta, credo che entro il prossimo mese partirà proprio la gara e quindi ci sarà poi una tempissima, perché le gare, sapete bene, che non sono semplicemente quelle di pubblicarle, ma poi di aggiudicarle, la verifica dei requisiti. E l'ultimo progetto che presenterà da assessore del Comune di Teramo, le mancherà un po' la città? No, io sarò sempre all'interno dell'amministrazione comunale, una lista civica con dei rappresentanti che in qualche modo mi rappresentano e ovviamente ci sarà sempre il nostro contatto, il mio contatto con questa amministrazione. Non credo che sia l'ultimo, perché abbiamo messo in campo una tale quantità di progetti e una quantità di progetti che dovranno arrivare a breve anche ad essere presentati alla stampa, e non solo la stampa che in qualche modo non potrebbe essere l'ultimo.